Omegosip e TV GF VIP, Geremias eliminato incontra il fratello di Francesco Monte Geremias Rodriguez quando era ancora nella casa, prime foto di Geremias Rodriguez dopo l'eliminazione del GF VIP nella puntata dell'altro ieri lunedì 13 novembre. Il ragazzo non sembra assolutamente averne fatto un dramma e in un'immagine postata sui social ieri si mostra a torso nudo con la lingua fuori e un'espressione scherzosamente spaventosa sul viso e sopra la scritta in obliquo essere se stessi, ma soprattutto ne posta un'altra in cui svela chi è stato uno dei primi ad incontrarlo Stefano, il fratello minore del suo ormai ex cognato Francesco Monte, che la sorella Cecilia ha mollato in diretta nella casa più spiata d'Italia poche settimane fa dopo quattro anni d'amore. I due ragazzi sono in macchina, Stefano sta parlando al cellulare sorridendo, mentre Geremias, al posto di guida, fa apposta uno sguardo truce per il sefie che posterà per i fans. La stessa foto è stata postata da Stefano sulla sua pagina. Chi segue le vicende degli inquilini del GFV sa che la minore dei fratelli Rodriguez, dopo aver concluso la sua esperienza, vorrebbe volare a Taranto per incontrare e chiarirsi con l'ex fidanzato e con la sua famiglia, scusandosi con loro per il proprio comportamento. Anche se ormai, nonostante i rimorsi, sembra aver deciso di stare con Ignazio Moser Geremias avrà cominciato a metterci una buona parola, grazie alla sua amicizia con il fratello di Francesco frequentare ancora Stefano Monte. Però, non è uno sgarbo che Geremias vuole fare a Cecilia o al suo ex fidanzato o a quello nuovo, bensì anche una questione lavorativa ai due ragazzi. Infatti, gestiscono insieme un'agenzia di comunicazione che cura gli interessi della stessa sorellina minore di Geremias e Belen, e quelli di Francesco. Continuerà così anche per quest'ultima, appena uscita dal reality, cosa che potrebbe avvenire lunedì prossimo La modella ha infatti nomination con l'ex ciclista, Ivana Marazzova e Aida Jespica. Il fratello avrà già incontrato anche Francesco, con il quale d'altra parte aveva sempre avuto un ottimo rapporto e lo hanno visto anche i telespettatori del GF VIP, con l'abbraccio commosso che i due si sono scambiati prima che l'ex tronista di Uomini e Donne uscisse mestamente dalla casa, dopo che Cecilia gli aveva detto che la loro storia era finita al comportamento di Geremias verso Francesco e Cecilia proprio perché molto vicino a Francesco Monte, quando era ancora nella casa Geremias aveva dichiarato, dopo quanto era successo con sua sorella e il contesto che è un po' così, anche se non ti interessa quello che può pensare la gente o no, il pensiero te lo fai. La cosa importante è che stanno bene loro, poi se piacciono o no quello è un altro discorso infatti alla fine è stato vicino a Cecilia indipendentemente da ciò che lui pensasse della vicenda. Poi aveva aggiunto la cosa che più mi dà fastidio è che non posso fare proprio niente per l'altra parte. È una cosa che vorrei fare io, mi viene automatico. Poi non è che posso fare chissà cosa, però stargli vicino è già tanto. Da qui non posso fare niente. Non è una persona X. Che devo fare? Insomma, aveva espresso il desiderio di confortare Francesco Monte in questo difficile momento.